Solo la Dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Foti sì, foti no, la sua candidatura è di rigore? Come dicono alcuni suoi assessori, se è di rigore, facciamo decidere la VAR. Ci sta il VAR, non il VAR? Il VAR, e la Juve non lo rispetta. La VAR però non sarebbe... In attesa della VAR, con il timore di finire in fallo, il sindaco respinge i pressing al mittente e a chi gli chiede se accoglierà l'assist di alcuni assessori, come Anacone e Prezzosi, a scendere di nuovo in campo per la poltrona di primo cittadino, assicura che non c'è partita. Neanche se vanno a piedi all'URD. Neanche se vanno a piedi all'URD. Molti suoi assessori spingono ancora per lei però? E spingono male, spingono male, spingono male. Loro sanno bene quali sono le mie decisioni, ma sono decisioni, ve lo ripeto per l'ennesima volta, che io ho manifestato in campagna elettorale, non le ho manifestate un mese fa. In campagna elettorale, agli elettori a cui io illustravo il mio programma amministrativo, ho sempre detto che il mio impegno si sarebbe limitato da una sola consigliatura, perché era giusto così e ritengo che sia giusto così, perché il principio della rotazione è un principio sano, democratico e pulito. Non ci possono essere concorsi pubblici vinti da sindaco o da assessore.